Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento uno splendido Renault Kangoovan 1.5 DCI da 66 kW e 90 CV, immatricolato il 30 dicembre 2015. Questo veicolo ha circa 6 quintali di portata, porta laterale posteriore sportevole e portellone posteriore a doppio battente. Ha percorso solamente 25.000 km naturalmente originalissimi, è disponibile in pronta consegna, è fatturabile con IVA esposta, quindi potete dedurlo in maniera totale. Vi faccio vedere anche le condizioni interne che sono veramente iniziappibili. Naturalmente abbiamo servus terzo, ecco i chilometri, vetri elettrici, chiusura centralizzata a distanza, aria condizionata, radio cd con viva voce bluetooth. Guardate è veramente perfetta questa Kangoo. Naturalmente disponibile in pronta consegna, vi aspetto Gussago in provincia di Brescia per vederlo, provarlo ed eventualmente acquistarlo. Grazie.